Si è conclusa nei giorni scorsi la visita in Italia del metropolito ortodosso di tutta la Moldavia Vladimir, in rappresentanza anche del Patriarca di Mosca. Una visita che ha toccato molte delle circa 40 chiese cattoliche concesse agli ortodossi moldavi, forti di 90 sacerdoti, tra cui la comunità di Vicenza, Schio, Piacenza, Padova, Roveretto, Reggio Emilia e Fidenza, dove ha incontrato anche alcuni vescovi, Monsignor Beniamino Pizziol di Vicenza, Monsignor Ovidio Vezzoli di Fidenza e Monsignor Massimo Camisasca di Reggio Emilia. La prima chiesa, Santa Croce, in Vicenza fu concessa nel 2005 da Monsignor Nosiglia, arciprete della chiesa e rappresentante del metropolito Vladimir per l'Italia, è da allora padre Veniam Inonu, che con grande lavoro, caparbietà e diversi aiuti anche di qualche italiano, è riuscito a riportare molte chiese alla originaria dignità di culto, con restauri e preziosi addobbi. Il metropolita Vladimir ha ringraziato commosso il vescovo di Vicenza e la chiesa cattolica per l'apertura e le disponibilità dimostrate e quanti aiutano con ogni mezzo i cittadini e i bambini moldavi bisognosi, sottolineando che la presenza delle autorità politiche moldave testimonia sia la riconoscenza che l'importanza che il suo paese dà alla fede cristiana e all'amicizia con l'Italia e i cattolici italiani. Durante la visita il metropolita ha insegnato il vescovo Pizio e anche il signor Gianluigi Graziani di Vicenza della stella al merito di Dio e della Madonna di Hirbovitz, prestigiosa onorificenza della chiesa cristiano ortodossa. Pensiamo che il santo padre sarà felice di sapere che qui da noi l'indifferenza non si è globalizzata, ha detto testualmente, e ciò fa onore a tutta l'Italia. Nelle sue visite il metropolita Vladimir è stato accompagnato anche dall'ambasciatore Stella Stingaci, dal console di Milano Sergei Goncerenko e dal console generale di Padova Oleg Nica, giovane brillante e diplomatico che si è guadagnato grandi simpatie e consensi.